volevo ringraziarvi oggi per tutti gli auguri che ho ricevuto ieri ieri purtroppo non sono riuscito a rispondere a nessuno di voi anche perché singolarmente sarebbe impossibile farlo siete veramente tantissimi e non voglio rispondere a uno poi l'altro non è quindi lo faccio pubblicamente ora vi ringrazio tantissimo per tutti gli auguri che mi avete inviato e vi voglio chiedere anche scusa se non sono riuscito a fare questo video ieri ma sono stato impegnatissimo sul set per la nuova serie che sto girando sempre per rai 1 vivando un abbraccione enorme un bacione enorme a tutti quanti e spero veramente di conoscere un giorno tutti quanti ciao so i'm not really understanding se sembra elegante o sembra come un paura sportive? sp töre sportive Grazie a tutti. Grazie a tutti.